Ciao e benvenuti in questo secondo video di Embre questo video è un video un po' focus perché in questo video andremo a definire i nostri desideri per questo anno, periodo, quello che vogliamo ho detto desideri e non obiettivi perché secondo me obiettivo è un po' troppo importante come parola un po' troppo cioè hai già deciso che quella è la tua cosa, quella è la tua strada e molto spesso farlo prima può essere più negativo che positivo perché comunque i nostri obiettivi possono cambiare, devono cambiare, devono evolversi man mano che noi ci evolviamo quindi piuttosto mi piace dire desideri perché mi sembra che la parola desideri sia qualcosa che può cambiare io ora desidero questo ma poi in realtà poi desidero altro e vi lancio già una provocazione quando parliamo di desideri cioè cose che vogliamo fare voglio chiedervi quanti e quali dei vostri desideri sono realmente vostri e non forse il desiderio di qualcun altro proiettato su di te cioè il desiderio che qualcun altro ha per te così io la lascio alleggiare, la lascio lì e vediamo se magari vi fa un pochino riflettere quindi perché è importante in questa fase già definire e incominciare a pensare ai nostri desideri uno per non brancolare nel buio molto spesso abbiamo questa sensazione di voler fare determinate cose solo che non riusciamo bene a identificarle ecco dopo aver fatto il passo indietro e guardare da lontano riuscire a identificare quello che vogliamo fare è un ottimo modo per mettere un freno a quella foga del voglio fare tutto ma non so che cosa e due per identificare delle necessità molto spesso mentre brancoliamo nel buio mentre sappiamo che vogliamo fare ma non sappiamo cosa vogliamo fare però sappiamo che c'è questa urgenza di dover fare che vogliamo, che abbiamo questo fuoco dentro in realtà non sappiamo bene di che cosa abbiamo bisogno e quindi riuscire a fermarsi e riflettere e chiedersi perché può sembrare banale ma ce lo chiediamo mai davvero che cosa voglio fare, di che cosa ho bisogno ci aiuta a identificare appunto delle nostre necessità che magari prima non pensavamo nemmeno di avere quindi esercizietto abbiamo capito il mood di quest'anno prenditi del tempo per scrivere e buttare giù una lista di cose che risponda alla domanda quali sono le cose che rimando da tempo e che vorrai ottenere e fare è una lista vostra, personale, non la deve leggere nessuno non la dovete condividere con nessuno dovete essere veramente voi stessi e chiari con voi stessi questo è una cosa difficile e che richiama anche un pochino la difficoltà di avere ad esempio un diario che è il non giudicarsi una delle cose più difficili nell'avere un diario è buttare giù pensieri, emozioni che si provano ma che una volta scritte nere su bianco dici no però, cioè ti giudichi, dici no però questo posso provare, posso pensare a una cosa del genere è sbagliato, non è giusto, non è normale come se dovesse leggerlo qualcun altro e questo non ci permette di essere sinceri nemmeno con ne stessi quindi una cosa veramente importante in questo percorso è essere sinceri con se stessi e quindi nel momento in cui andiamo a definire i nostri desideri scrivere esattamente ciò che ci passa per la testa che può essere andare a camminare sulla luna che può essere scrivere un libro qualunque cosa più o meno realizzabile che sia buttate giù i vostri desideri io concluderei questo video con questo piccolo compito a casa trovatevi del tempo la mattina, la sera quando volete da dedicare a voi stessi perché anche questo fa parte di un percorso di benessere e noi ci vediamo nel prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao